salve amici non guardate questo video perché oggi parleremo di mon blanc che io vi lo consiglio caldamente non vi lamentate con me se poi ah ma guarda che tu non guardate questo video quindi mi sembra proprio più chiaro di così non vi lamentate se volete guardare questo video lo farete a vostro rischio e pericolo alla proche la montblanc presenta un nuovo tipo di caricamento per una sua stilografica che si chiama montblanc travel iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.